Buon pomeriggio a tutti. Io di fatto vi riporto pesantemente con i piedi per terra, cioè vi riporto effettivamente a quella che è la nostra neurobiologia, come effettivamente funzioniamo, senza in nessun modo avere la pretesa, come dire, di esaurire tutto l'argomento in questi 15-20 minuti che ho a disposizione. Di fatto, come posso iniziare? Noi siamo organismi biologici, basta. Noi siamo organismi biologici e in quanto tali l'unico nostro scopo è sopravvivere. Noi dobbiamo organizzarci per sopravvivere, per far sì che la nostra specie e gli altri organismi effettivamente sopravvivano. Questo è stato il nostro mandato, l'unico effettivo mandato, fin dall'alba dei tempi. Tanto che la nostra filogenesi, cioè la capacità, i meccanismi che si sono evoluti nel tempo, nelle generazioni, nelle ere, di fatto hanno permesso il perfezionamento di quei meccanismi che oggi noi impersonifichiamo in un qualche modo e che sono i meccanismi che effettivamente ci permettono, ci danno più speranze, più chance di sopravvivenza. Ora questo sembra un po' distante, ma ci arrivo, non partiamo effettivamente dal paleozoico, arriviamo a noi. E arriviamo a noi con che cosa? Con una delle abilità fondamentali. Per sopravvivere la prima cosa che dobbiamo fare è comprendere cosa è dannoso, cosa è pericoloso e cosa invece non lo è nel nostro ambiente. Cioè dobbiamo essere in grado di riconoscere cosa è una minaccia e cosa invece è uno stimolo che potrebbe garantirci la sopravvivenza, potrebbe essere addirittura positivo. Questo cosa significa? Che nel corso della filogenesi abbiamo sviluppato dei meccanismi fondamentali che ci permettono di fare questo. Ora tanto perché vogliamo fare un po' la parte scientifica, il meccanismo in assoluto più primordiale in questo contesto è quello che viene chiamato il condizionamento e in particolare il condizionamento avversivo. Cioè noi siamo in grado effettivamente di accoppiare uno stimolo di per se stesso negativo. Immaginiamo un forte suono, il dolore, quindi uno stimolo che è di per se stesso con naturalmente negativo, con uno stimolo che negativo in se stesso non è un colore, un oggetto, uno spazio, ma che trovandosi consistentemente nello stesso ambiente, quindi associandosi allo stimolo negativo, di fatto viene concepito come tale. Questo viene chiamato condizionamento avversivo. È fondamentale perché ci permette di rifugire dallo stimolo negativo e anche da tutti gli altri stimoli che possono trovarsi in compresenza o che si trovano spesso in compresenza con lo stimolo negativo. Cioè non rifugiamo soltanto il leone, magari stiamo anche lontani dalla tana del leone, ok? Questo meccanismo è portato a termine a diverse strutture cerebrali. L'ippocampo per la memoria, l'amigdala per la paura, l'ipotalamo, la sostanza grigia per l'acquedutale, sto facendo un po' dei nomi per darmi un tono, che comunque controllano il sistema nervoso autonomo che tutto è tranne che autonomo, ma ormai gli abbiamo dato questo nome, ci teniamo questo, e che ci permettono effettivamente di organizzare le nostre risposte, cioè di avvicinarci o rifugire. Il condizionamento avversivo, in modo forse un po' anedottico, è stato il protagonista di una serie di studi degli anni venti della psicologia sperimentale, probabilmente ne avrete sentito parlare, l'esperimento del piccolo Albert, durante il quale Watson condizionò in modo avversivo un bambino di poco meno di un anno alla visione di un piccolo topolino. In sostanza cosa accadde? Il primo giorno il piccolo Albert veniva lasciato giocare con questo piccolo topo bianco, il secondo giorno ogni volta che il piccolo Albert si avvicinava al topolino, un tubo metallico veniva percosso con un pesante martello, producendo ovviamente un rumore enorme che spaventava il bambino. Quindi vedete, stimolo di per sé stesso negativo, grosso rumore, stimolo neutro o addirittura positivo, il topolino. Trovandosi insieme il piccolo Albert aveva sviluppato un condizionamento avversivo, che tra l'altro si era generalizzato a tanti stimoli. Il bambino quindi rifugiva non solo il topolino, ma anche per esempio, questi, diciamo dai records, non sappiamo come è andata veramente, però rifugiva anche la barba di Babbo Natale oppure un piccolo panno di tessuto bianco, perché erano simili al topolino. È possibile estinguere queste risposte, ma esse sono anche molto forti, tanto che rimasero nel comportamento del piccolo Albert per diversi anni. Ora, abbiamo parlato dell'aspetto negativo, cioè di cosa dobbiamo imparare a rifugire, anche perché per il nostro sistema biologico, diciamo, tra la proverbiale carota e bastone vince quasi sempre il bastone, perché è molto meglio scappare piuttosto che avvicinarci a qualcosa di pericoloso. È possibile però anche avere un condizionamento positivo, cioè con lo stesso meccanismo associare uno stimolo neutro all'assenza di qualcosa di dannoso. Questo safety learning, come viene chiamato, funziona in modo molto simile e ha tra le sue caratteristiche biologiche un attore, che vedremo dopo, che è una molecola particolare, che è l'ossitocina. Ora, tutto questo discorso, che cosa ci permette di dire? Ci permette di dire che la nostra specie e anche altre specie animali hanno sviluppato dei sistemi biologici per garantirsi un comportamento adeguato nei confronti di attrazione o repulsione. Cioè sappiamo da cosa siamo attratti, sappiamo cosa ci repelle e sappiamo perché. Sono evolutivamente vantaggiosi. Ora, il problema è che un conto è l'attrazione e un conto è la fiducia, la fedeltà. Di questo abbiamo visto diversi esempi. Se dovessi tradurlo, un conto è attrarre con colori, suoni, spot, attrarre nuove persone, nuovi clienti, un conto è mantenere il cliente fedele nel tempo. Questo è diverso, l'abbiamo visto in diversi talk prima del mio. La cosa interessante è che è diverso anche a livello neurobiologico. Sono due cose diverse. E per provare a spiegarvelo, spero il più chiaramente possibile, rifaccio un passo indietro. Quindi abbiamo detto siamo organismi biologici, siamo volti alla sopravvivenza. Il problema, tra virgolette, è che non siamo organismi qualsiasi, siamo mammiferi. Non siamo né rettili, né uccelli, né insetti. Noi siamo mammiferi. Quindi per la nostra stessa sopravvivenza c'è un altro tassello da aggiungere. Necessitiamo le relazioni sociali. In quanto mammiferi noi diamo la vita alla nostra prole e la relazione che si instaura tra la madre e la prole è fondamentale alla sopravvivenza della prole stessa. Quindi è fondamentale a livello filogenetico che si sviluppino dei meccanismi neurobiologici che ci permettano di instaurare questo legame. Oggi addirittura per l'uomo e per altre specie di mammiferi parliamo di classe di mammiferi sociali. In che senso? Che non solo diamo alla luce la nostra prole e la alimentiamo attraverso il nostro corpo, ma la nostra stessa sopravvivenza è vincolata dal contesto gruppale nel quale viviamo. Nessuno di noi può sopravvivere da solo. La nostra struttura sociale è diventata proprio ontologica nella nostra definizione di uomo. Abbiamo una struttura sociale che ci garantisce essa stessa la nostra sopravvivenza. Quindi a maggior ragione necessitiamo di una qualche base neurobiologica che ci permetta di fare questo, cioè che ci permetta di essere ad esempio qui tutti insieme oggi a parlare di questi aspetti, che ci permetta di concepire e vivere strutture sociali così complesse. non lo permette solo a noi, anche a molti altri mammiferi, però ovviamente siamo un po' antropocentrici, quindi andiamo a vedere nell'uomo. Ora se noi giocassimo a un tabù neuroscientifico nel quale andiamo a dire relazione sociale, attaccamento, amore, fiducia, fedeltà, sicuramente qualsiasi neuroscienziato in questo party che deve essere di una fantasiosa sfrenatezza direbbe ossitocina. Cioè l'attore principale che ci garantisce, che ci permette questa relazione sociale è di fatto l'ossitocina. Che cos'è l'ossitocina? L'ossitocina è un ormone peptidico di 9 aminoacidi, questo sempre per il tonno scientifico del talk, che viene prodotto dall'ipotalamo, secreto dalla neuroipofisi, ovviamente controllato a livello genetico e quant'altro. Di fatto la cosa straordinaria dell'ossitocina è che è come un giano bifronte, ha come due facce. Da un lato viene rilasciato nel circolo, quindi nei nostri vasi e di fatto è quello che è coinvolto nel mantenimento e nell'inizio del travaglio e poi del parto, cioè permette alla donna di avere le contrazioni uterine, tanto che ossitocina dal greco significa parto rapido. Dale, che poi vinse il Nobel per gli studi su un'altra sostanza, fu il primo effettivamente a scoprire che attraverso l'iniezione di ossitocina si poteva favorire la contrazione nel parto. Agisce anche sui dotti lattiferi delle mammelle per permettere l'allattamento. Accanto a questo però l'ossitocina è anche un neurotrasmettitore, cioè cosa significa? Che ci sono delle regioni nel cervello che usano l'ossitocina per comunicare, cioè che usano l'ossitocina e sono recettive alla presenza di ossitocina. La cosa interessante è che queste non sono regioni a caso nel nostro cervello, ma sono quelle regioni che sono legate alla nostra capacità di provare e regolare emozioni, alla nostra capacità di avere dei legami sociali, anche ai nostri sistemi di ricompensa e reward, quindi a tutto il sistema dopaminergico che ci permette di avere un rilascio proprio di dopamina quando riceviamo una ricompensa, oppure al contrario di slatentizzare delle risposte comportamentali là dove la ricompensa non c'è. Quindi capite che grandissimo impatto ha questo ormone in entrambi i sessi, quindi non solo nella donna, sebbene per le donne grazie poi agli estrogeni l'effetto dell'ossitocina è licitato. Ad ogni modo in entrambi i sessi il rilascio di ossitocina si associa proprio all'instaurazione di un legame affettivo. La possibilità per esempio di accarezzare, di abbracciare una persona rilascia ossitocina e permette effettivamente questa relazione di attaccamento, di fiducia tra individui con specifici e non solo. Fu poi negli anni 50 circa che l'ossitocina venne sintetizzata, quindi è dagli anni 50 che viene utilizzata appunto con un'iniezione prevendo venosa, nel caso ovviamente di un trattamento per il parto della donna, o che viene inalata attraverso dei PUF e in questo caso può essere utilizzata solo per scopi di ricerca, anche se probabilmente, non so, aggiungerla agli odoratori delle varie stanze probabilmente aiuterebbe un pochino tutto il nostro contesto, però ad ogni modo non si può. Hanno quindi iniziato a studiare cosa fa l'inalazione di ossitocina e si è visto che effettivamente l'ossitocina permette per esempio alle persone di avere più fiducia e quindi dopo l'inalazione le persone tendono a prestare maggiormente denaro sconosciuti. Utile. Io ho ossitocina in realtà addosso, è per questo che siete così ben disposti. In quei dilemmi morali sono dei giochi particolari nei quali si prospetta al partecipante una situazione che ha diciamo qualcosa di morale da dover scegliere, per esempio il più famoso è quello dove noi siamo il capotreno di un'improbabile stazione con solo un binario su un ramo di questi binari, c'è una nostra persona a casa cara legata, sull'altro ci sono 20 sconosciuti legati, sta arrivando il treno, noi abbiamo lo scambiatore e dobbiamo scegliere sostanzialmente se far perire il nostro caro o far perire 20 sconosciuti. Dopo l'ossitocina più probabilmente sceglieremo di far perire 20 sconosciuti, quindi avremmo una risposta più altruistica piuttosto che egoica, cioè legata poi alla sopravvivenza del nostro caro. Sono dilemmi morali, non c'è una risposta giusta o sbagliata, c'è un modo differente di agire. Riduce lo stress, l'inalazione di ossitocina calma tutti quei sistemi di attivazione autonomica legata proprio al rilascio di cortisole, quindi alle nostre risposte legate all'ansia. Alcuni lavori più recenti vedono come dopo l'inalazione di ossitocina si è anche più disponibile a rilasciare le proprie informazioni personali molto molto sensibili, per esempio sulle abitudini sessuali, sull'orientamento religioso a persone sconosciute e alcuni studi più prosaici vedono come anche riduca l'infedeltà coniugale. Però ad ogni modo quello che è cruciale in questo è evidenziare come questa molecola, questo ormone abbia di fatto un rapporto stretto con quello che è il nostro comportamento sociale, che in un qualche modo potremmo diciamo declinare con la fiducia. Concludendo, non voglio in nessun modo, nonostante diciamo la brevità dell'intervento, fare un'associazione uno a uno tra un comportamento così complesso come può essere la fedeltà, per esempio, e un solo ed unico base neurobiologica come può essere l'ossitocina. È evidente che il comportamento umano ha molte origini, ha molte spiegazioni che si interfacciano tra loro. Quello che mi interessa maggiormente è, e qui mi aiuta Chekhov, parafrasandolo, bisogna fidarsi e credere nelle persone o la vita diviene impossibile. È così, tanto che la nostra neurobiologia ci ha permesso un sistema all'interno del quale noi possiamo effettivamente instaurare, grazie al quale possiamo effettivamente instaurare delle relazioni di fiducia, delle relazioni di attaccamento positivo. Lo stesso autore però scrive, fidati del tuo cane fino all'ultimo, ma di tua moglie o di tuo marito solo alla prima occasione. Questo è molto vero, cosa vuol dire? Che siamo altrettanto plastici. Il rilascio di ossitocina che ci permette di avere questo, diciamo, legame di fiducia, questo attaccamento positivo non è dato per scontato o dato sempre nello stesso modo. Le esperienze di vita modulano il rilascio dell'ossitocina nelle diverse contesti ambientali. E questo è fondamentale, questo anche funziona alla nostra evoluzione. Se noi rispondessimo sempre in modo stereotipato, sempre nello stesso modo, non avremmo molte speranze di sopravvivenza in un ambiente che è sempre continuamente in cambiamento. Quello che dobbiamo fare è apprendere dalle nostre esperienze e attuare la risposta anche neurobiologica e conseguentemente comportamentale più funzionale all'esperienza contingente che stiamo vivendo. E quindi in questo senso la seconda chiave di lettura è sì, siamo capaci di avere fiducia, ma bisogna anche meritarsela. Vi rubo l'ultimo minuto per dire che in tutto questo, diciamo, questa semplificazione può esserci d'aiuto non tanto per cercare di semplificare al massimo il comportamento, quanto forse per usare, quanto vi ho detto, come trampolino di lancio per rileggere e quindi aumentare la complessità di lettura di altri comportamenti che abbiamo osservato e che di fatto fanno parte del patrimonio comportamentale che abbiamo evoluto nella nostra filogenesi, nelle nostre ere. Grazie. Grazie.